Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono io MrL e oggi sono qua in compagnia come sempre di Ikriz Eeeh ho deciso di fare una specie di episodio speciale dove vado a cazzeggiare Ikriz parla Dove vado a cazzeggiare con la corazza Un corazzo che mi ha scelti in una partita precedente fatta da Ikriz Ikriz ti va a richiudere un po' la finestra che ho O di spostare un po' la tv che io ho il riflesso proprio addosso Io ci gioco sempre con il riflesso Ok va un po' più a sinistra l'ora che sono davanti Grazie Ho fatto tutto il gioco con il riflesso Ok E quindi nemici forti dove devo andare Sto qui il mio equipaggiamento Ci sono i cavalieri bianchi Scimitarra, Tur, Corazza e Tartarugone Dove devo andare dai su Devi andare dove c'è una strada cazzo Eh lo so ma che cazzo non ci gioco mai Eeeh no si Ok Ti vai a tirare un po' giù la persiana E casa mia comando io Tira giù la persiana Sei tipo un bussolini arrivi nei paesi e rompi il cazzo Dira giù la persiana ho detto No Dai ti prego Perché la persiana? Perché da fastidio il riflesso dai E non passare Tu sei lì col telefono almeno Dai Vuol che due stracoglioni ma Tu sei uno stracoglioni I suoi video non mettete mai like va bene? Cosa? Sono i miei video quelli lì che portano visual Non i tuoi Ma io mi sono i miei almeno Ah ok dai È muto Dai metti via il telefono che così ora ci divertiamo insieme Ma che cazzo joystick in mano? Cazzo dici metti Subisco danni se mi butterà qui con una corazza così pesante? No Logico C'è una corazza che pesa E' una corazza che pesa come il mondo logico Ah che palle Visto che non posso saldi saldi fa schifo in sto gioco Nell'uno erano scomodi però saltavano un po' Ma qua non salta nemmeno Eh i nemici forti dove dobbiamo andare ora quindi Per di qua? Sì Sì Metti giù quell'angry bird transformer come si chiama Entrate in vento Tra l'altro io Quando non sai che fai? Io tra l'altro sto anche parlando nel microfono Facciamolo tirò un po' indietro Ok Eccolo qua Ok lo distruggo Guardate lo cavallo Non togli così tanto come pensavo No pensavo cadesse Ma però Fa un danno enorme Ho anche la corazza enorme Ok Come ti trovo? Sì infatti fa più danni No ovvio Se non sarebbe troppo facile il gioco Ed è caduto Ma perché devi fa schifo anche qua? Stop la registrazione Ci vediamo dopo ok Stop Perché devi stoppare? Perché dando se no così tanto devi tagliare Perciò almeno ti risparmio l'editing Ci si vede dopo Ok sono tornato vicino al punto in cui sono morto prima con un babbacone Mi prendi l'anima Praticamente qui è come stessi facendo il gameplay Perché i crediti non parla Eh cosa accanto devo dire che vuoi schifo? Sì A volte è vero A volte che è vero Guarda Vai batti lo batti Me ne vado me ne vado Guarda qui l'anima e basta guarda 1,2 e un colpo lo è già preso Ah fanculo odio quando mi partono gli attacchi pesanti Per questo non li faccio male Ha fatto tre volte peggio dell'uno Madonna cara Guarda quanto il peggio toglie però Mi sta arando Attacchi pesanti di abono È fatto tre volte peggio dell'uno Ok mister L vuole vendetta ragazzi E se morirà stavolta farà giocare i creeps Avevi detto di no Eh già vi ho pensato Oh ma tu sei coerente come lo specchio Tra l'altro se io fossi Se io sono in pericolo devo scappare Indietro Eh guarda intanto io ammazzo con cecione rafle Così facendo la ritirata libera Cioè posso andare a combattere questo piazzale Scusa ma come ah il petale Ok vabbè ti chiedi tutti i figli non ti badano Ok ok Eccato se toglie E nel mio coso non toltevano così tanto È lento fare gli attacchi nell'una meno era più reattivo Qua l'am Lente Vai Grazie a Dio che sono armato e ma una mano singola altrimenti Madonna mia amore Ho avendo due mani Sì infatti Questo cosa vuoi farci Ok 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 backstabato Eh ti piacerebbe Eh no no Ok vaffanculo gli attacchi pesanti Cioè gli attacchi in salto Madonna cara Tre volte non ti Tre volte ti vengono Una volta Ok Che poi ragazzi abbiamo notato che se noi corriamo L'armatura si deformerà come se fosse di gomma dietro Guardate il tetrarugone Sembra che si deformi come se fosse di gomma Quindi ora tu soffri Sì come quella di Caterina che sembrava tanto vero Sì è vero Via 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 Ok ok È vero non ci può bestabare con questa corazza qui Vieni qua Dai ciccio Oh non può venire Ha paura Madonna mia il raggio Vieni qua Combatti da uomo Che culo Qua l'ho schivata di pochissimo Ok Ne abbiamo ucciso un altro Dai che sto cominciando ad andare benino Ma perché ha alcune dinamiche vagamente diverse rispetto all'1 E comunque si hai Chris Non lo smetto Ma perché non vuoi partecipare a questo gameplay? Eh perché basta cosa che partecivo a fare Eh? Perché basta cosa vedi te lo stai facendo iniziare Ma Chris Toriz Chiamami con il nome di canale Ma ti ho insegnato come devi fare Va lì dietro Eh ma va là E se gira Si usa lo scudo Eh hai visto? Quando potrei la variante che è ancora più difficile Ok Non tirano ma state la valanga A mio parere io ragazzi ho giocato molto sia all'1 che al 2 Devo ammettere che rispetto all'1 ho noto moltissime cose peggiorate Anima soldata ignota e figia umana Eh come si chiama questa modalità di gioco scusa? New game plus New game plus Cioè che rigiochiamo Spero Che c'è una nuova partita Solo I nemici sono più forti Ma in compenso partiamo con le anime Con tutte le armature sbloccate Le anime più E più livello più avanzato Via Via Vieni qua Vieni qua Dai ciccino vieni qua Vieni qua Ma che cazzo da mozzaro? Perché devi tirarlo? Ti giri intorno Ad esempio Bextabano scusa Ehm va bene l'1 Bxtabare i nemici molto più grandi di te Mori mi compenetro con te Ok mi spendo Ok dai andiamo avanti Superi e saltati Tratto c'ho le cuffie C'hai la leva Ah qua nei 3 C'è un cazzo toi Ma io tiro fuori l'una alla volta Ah io tiro fuori l'una alla volta Ok Tiaremo in 3 Faremo tipo gli spartani Qua 300 Ah mio zio Non ne so Non ne so Mottarne anche uno Due ne vuol fare Via 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 Ma che non si è un 3 addirittura Non è quella tua sinistra Non c'ho un posto abbastanza buono Dove comba Sono incazzosi Non vogliono rendersi No giocano tipo schiaccia lo scheraffaggio Tutti e due che sbattano per te Oh ma sti qua non se ne vogliono andare Eh questo Ti inseguono fino alla fine Sì vabbè se stai da fisso davanti all'oltre È ovvio che ti inseguono Tu scappi verso il nero Ah ah mi è mancato Baldrack Ok quindi Ecco combatterò qui Il follo non è neanche acceso Dio bono tutti gli attacchi vanno a puttani Sì vabbè ma sei qua Oh mio dio Oh mio dio quanta vita mi è rimasto Non ti fermare come nell'uno Quella roba che più ho odiato dell'uno Ma sì infatti non ha senso sta roba Ma è normale che faccio così tanti danni Che due colpi mi hanno ucciso Sì Anzi no Vabbè che sei più in game plus Trato se mi paro non mi fanno Hai rotto il cazzo lo sai E anche Se non è ma ti fai colpire come un'efficienza Combo da quattro dai combo da quattro dai Muori Qua ce ne vuole ancora un po' Oh no 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 Ah ok Bene Vai giù vai giù Guarda ti ho giusto Antico mortello guarda Tu non c'hai un'arma che Guarda che torna a casa Tipo No no niente 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 proprio niente Volevo provare un'arma un po' a due mani Più forte ma no Che già questa qui è lenta di per sé Più che altro non è che è lenta Ma ecco Cioè è molto lenta tirare solo lo scudo A rimettersi in guardia Cioè Nell'uno non era così lento E ne abbiamo tirato giù uno Guarda la tua sinistra Più a sinistra Non c'hai le magie Sai cos'è la sinistra? No non per il cazzo Non c'è nessuno di là Ah ok Ok se teneremo da dire tre medico Ma timpula E sono più deboli questi uomo Con spada singola Eh che cavolo è anche giusto grossino Eh ecco qua muori Ora ti arrivo in due Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Chi ammazza per primo Chi ammazza per primo Chi ti ammazza per andare per andare per più giusto Ne devo andare Tu spero non ti passino E ti faccio Via 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 Dai Che poi io Mi spingono giù Ma gioco di merda Ci sono altri nemici che non sono sti qua Oh ma Me ne vado lì A stoppare la registrazione Ciao ragazzi Siamo tornati di nuovo Eh no Voi non mi fate niente Vabbè questi qua schifo Cavolo Non entra nell'acqua Ok quindi siamo di nuovo qua Ho ripreso la registrazione Ragazzi Sì sì dai Dove sta a bar Questi qui è Eh raccolgo tutto Giama Vitale Sembra la legge Ok Odio l'attacco pesante che non parte Ok eeeh muori Trova qualcosa da dire Ritz Che ti ostini a fare l'attacco pesante anche se sai che non parte È partito Dopo quando Dopo molti tentativi E allora Ma data mia è una boiata adesso Vi sto Ok un attimo che voglio vedere una roba io Niente a me piace questa corazza qui ragazzi e perciò continuerò a ostilizzare questa qui Quindi Dai cerchiamo di dire qualcosa di divertente Ritz ti vedo Pronto sfiga Eh Pronto sfiga questa motura Perché Ah perché ogni volta Non andare Ma dai che tanto sono messo bene Mura è morto Quando sono messo bene Mi aiuti dopo Dio buono dagli la guardia Vabbè con gli scudi grandi Tipo Quando ti colpiscono Rimbalzano Se gli stordicini Ok mi stanno Se non hai energia Eh ma io penso Ah vero bombardano Dai tutti avanti Tutti avanti Ci sono guardi Va avanti a punto Bene Tu non c'hai l'anello che ti ricarica l'energia continuamente Ah la vita Sì Eh vabbè ma quello là Vaffanculo In questo qua non ce l'ho perché ho distrutto il fortiere Perché hai distrutto? Il fortiere Ah ok Sì non ho sentito Devo entrare qua? Tu distruggi il fortiere e non hai più l'anello Devo entrare là? Sì Ok Merda che si è analizzato un altro Torna nel mondo dei morti Val Dracca Ok Sì dove qua è difficile Bevo una fiaschetta? Sì Ah E si ferma Si ferma C'hai un nemico che sta per attaccarti giustamente Che fa si ferma? Non lo so nel 3 Nell'1 so che si ferma Sì Sì si ferma Così si beve anche con calma nel 1 Ogni posto le sei assediato da Dio mio così tanti Sono in 2 3 Sto dove fu cazzo in piangere Ok Quindi Mi era colpito che non l'ho visto Sì Vaffanculo Ah lo sapevo Me lo ricordavo E' un altro Poi non si vuole un colpito in più Siamo fortissimi Ok Tanto sono anche venti La coglie oggetto che mi droppa Guanti del soldato vuoto Nulla che ci possa Nulla che ci possa essere utile Ok Ah qua ti ricordi quando sei morto prima Non lo so Ho brutti regali di questa zona Hort住 Ma quanti dei presi il tempo Ma quanti dei presi il secondo Ma quanti dei presi Se ne avevo la corazza quanto danni mi facevano ��mi Se ne vedi Se ne viva la miserija Si Te vado da utilizzare attacco pesante vai così è partito ragazzi quindi non occhio che gli dice lo scudino eh ti spara no 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 vai dietro si la non è marciare cosa c'è in fondo di marciare? c'è un oggetto ma dovresti già averlo no? cos'è? ah quello scudo lì che abbiamo già visto il cappello eh se tipo è grande come sembra un cappello da mettere in testa da quanto è piccolo le sacane in legno vabbè se si spezzate sotto tutto questo peso si puoi pesare anche 29 non so apro oh ma ciao fottiti muori che poi lui la usa anche bene la spada ma è un tank dove fa le robe raffinate così con la mano anche se è un che cos'è? è un carro armato un transformer è un carro armato è un carro armato è un carro armato ora magari c'è le ruote se avesse le ruote al posto dei sandali qua delle scarpe sarebbe un carro armato facendo farò vaffanculo così abbiamo tutti i farò carichi non tutti ok nemici per di qua ah ti ricordi che quante volte sei morto te? poterò po' si vabbè avevo un pugnale ti rendi conto un po' come arma avevo solo un pugnale non potevo fare un cazzo bene tu muori ne ho uno dietro no è morto uno dietro quello ah si si me ne ero accorto voglio fare lo strunzone e schivare ah ah ora mi ricordo come si gioca dai dove è il prossimo che manca dai madonna mia se cadesse questo qui si si è vivo fanno finta di essere morti ok sono stressati animali non ho morto creduto bene ma quindi ci sono ancora tutti i boss da dover fare si voglio fare un boss ok va bene andiamo il persecutore voglio fare si il persecutore vorrei che ci arrivi ehhh e non so io dove e' lontano aspetta 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 devi devi più non batterebo ma ciao venite svegliato devi più non siete con boss ah ok qual'è il boss più vicino quindi guidami virgilio indietro 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 no ma intanto ho libero qua ma guarda e guiglami indietro voglio combattere contro l'altro ciccione perchè non mi da la guardia ok ok qua fa spodre qualcosa eh se capisce si dai 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 via ahhh eh serre così non è tutto un cazzo eh merda è fortissimo mi arrendo ti prego e non uccidermi sono tuo fratello ahahah sono tuo fratello ahahah sono stati separati alla nascita via via oh mio dio quanto c**o hai avuto che sei cavuto la c**o dove dovevo andare mi stanno sparando non lo so non lo so neanche io che c**o sei finito ok oh c**o quante vite hai perso ma fa il c**o il telefono ahhh è il mio ah no è il tuo è il mio è il mio ok ok allora mi stanno bersagliando aiuto e mi stanno cuciendo via sali la scala la scala la scala la scala qua che è lì c'è uno scala vedi su dai t'artanugone dai siamo tutti con te guarda che ha creato tre volte il fantasma è tre volte più veloce di noi a salire almeno quando deve scendere sarà tre volte più veloce e ne hai uno sulle mura ma che ti ah volevi si si può sostituire uno solo scuro eh si anche nell'1 mi ricordo certo qua non si capisce quando devono parare questo è il punto merda di là poi come dove sparano dio crista è un casino ecco perché la feschetta la feschetta veloce veloce devo bracarmi mio dio come sono non vederli oh mio dio su ok no in acqua morivo eh in acqua morivo no sfrutavi dove deve andare dove deve andare eh dai c'è lì dove andare indietro ok no c'è il tarugone ma è lo stesso di prima che è sceso si vuole venire a prendermi ah sei incastrato sei incastrato mi aveva colpito che non ho visto la barra della vita scendere vaffanculo cioè mi hanno tolto vita intendo ma porca puttano dove devo andare eh devi per portare una roba del tribone perchè è andata via vaffanculo fottetevi sei passendo un casino questo gioco che oh mio dio il disagio eh 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 che fai ora vaffanculo è stato inutile ecco cosa fai schifo ah non ho spezzato la radice non gli faccio una sega di danno vaffanculo arcieri dove sta ah già se non puoi farlo non puoi farlo te oh è morto hai rotto il cazzo ora ti ammazzo vieni qua ho che non cadere madonna mia quanto godo nell'ucciderti muori se quello è il bello ce n'è anche un altro poi dopo ti faccio spawnare per uccidere dove 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 si sta nascondendo ok e ce n'è anche un altro su ma faffanculo come fai sui salire qui sopra tu andai indietro sullo sullo scala lo scudo scompare nella tasca magica di Doraemon ragazzi no vai a destra vedi le travi vai oh piramide oh si torna su eh madonna come torna su dove vabbè dove indietro vaffanculo voglio il boss io ok indietro aspetta andiamo a liberare la zona è pieno di gente o meglio che lo canale penso coglione qua facciamo lo scisma noi ci minacciamo sempre di fare lo scisma ad oriento come si chiama era o come si chiama era ma che ignorante sei adesso si perchè tipo quando litighiamo o cosi anche per scherzare diciamo facciamo lo scisma e dividiamo il canale come l'impero che si è diviso si per seconda cosa volo eh si mi è venuto in mente ma uccidilo mi bastava un colpo è morto no è morto madonna vedo quanto è morto pensavo di aver fatto ucciso ahhhh perchè è arrivato qui non lo so te lo trovo a quie volte e dimmelo uccidilo uccidilo non me ne prendo un cazzo ma conta come i boss fight non mi credo di ehm non lo so non l'ho mai ucciso qua gira all'intorno gira all'intorno gira all'intorno è l'unica roba che vuoi fare cosa devo fare hai rotto il cazzo i nemici non servono neanche perché ha un po' di vista qua si ecco qua fottiti madonna ah no non puoi sto scuro qui una meraviglia ragazzi no li fai li tipo lo colpisce con lo suono si può avere a qualità da seda persecutore figa ce l'hai devi avere la sua anima no devi avere la sua anima anzi sai che non lo so magari protegge bene guarda che è brutto però che sembra che c'è un tumore nel petto ah boh tutto fiero comunque si mantieni un po' di energia che magari ti colpisce eh si infatti sto aspettando è più lenta qui a ricaricarsi l'energia che nell'1 eh se no sarebbe troppo facile ah quando vedi che la spada si illumina di blu e prepara così scappa perché è imparabile poi si potenzia anche lui ah ok e dopo magari fa un attacco tipo ti tira delle anime ok stai andando bene che stranamente poi c'è quello là sull'angolino che lancia le bombe che ti sta fissando vieni qua sei fuori dal mio raggio eh c'è il sindacato che mi protegge sei fuori dal mio raggio non ti attacco i sindacati i sindacati ma qua la roba strana un colpo di spadone così eh lo pari senza problemi lo pari senza problemi lo pari senza problemi un colpo di scudo ti rompe la guardia eh infatti cosa che senso ha oh vediamo che succede sulla morticola quando è che se tu la prima volta del gioco mi ha spezzata la guardia che è una meraviglia tu la prima volta del gioco non puoi sperare di battere dopo perchè sei preso troppo male vaffanculo merda merdinski merdonski vede sto qua che rotola vaffanculo devi morire anima persecutore madonna mia mi compenetro con te madonna mia ci sono alzati gli altri paura ad alzare il cosiddetto perchè il boss mi ha detto rizz falciano anche i minion qua giusto? allora sinceramente non c'è mai stato un boss con i minion quindi ah allora stai parlando del treno non mi ricordo vieni qua scendi fottiti no che qua il boss vieni qua i nemici avevano paura di spawn di saltarsi perchè ma zonna mia cari non lo so se lo so faronti anche dopo ok mi sono comportato bene mi sa si ok ma mi sa di si che lo trovo anche dopo perchè quello è un logo del boss ma se io scappavo da questa piazzola qui lui mi inseguiva no che il persecutore dovrebbe inseguire che stavo su ah ok ah quindi eh stavo niente da aspettare non hai niente da fare aspetta si vabbè poi vieni qua 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 piazza vieni qua tutti i dati che è uno scuola così madonna mia un po' più veloce no si avete che fare ruota da ne pr po sfursion per un attimo per la passione baramaglia del Palazzo fattacolo baffanculo incanzito Mi sono riuscito Ti è arrivata addosso una montagna Perché è una montagna di ferro Ti arriva addosso una spada che te la punta dritta sul naso E tu che fai? Vieni aperto come una mira Dammi qua Adesso comando io Ah che figo L'attacco con lo scudo fa male Allontanati Non mi interessa quello qui Ecco no Ah che figo Però ora mi serve vita Ah c'è il faroli va ti sedia intanto No no poi rispondono col cazzo Ma si dai che è divertente dai Però questo non lo sapevi Eh no sto qui no Andiamo dal boss Andiamo dal boss dai 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 Altro boss perché gli ho fatto uno Gasati 44 mila animi potenzia un po' ci riesco Eh sinceramente no Non è come nell'uno che ti vuoi potenziare qua Com'è bisogno di tu di 44 mila anime Prima avanti vai nel gioco ovvio Madonna mi answering Ma non è qua al boss che cazzo fai Eh davvero vado dietro cazzo ho preso paura cosa pensavi niente non ho seguito no no va via vatene via al mio segno fratello incazzato parlo scuole scuso la vostra macanella polo ma che cazzo serviva a fare questa strada come perché arcibo teletrasportare farò intendi scuro ed al palo potete arrivare tranquillamente senza passato il disco poi basta scopo e basta a ciccione ai canali no 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 dove vado poi sulle scale va fanculo e poi torna al palo perchè qua cazzo cazzo sai 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 l'ansia l'ansia il disalto ma cosa nello scala non è anche che ansia vuoi avere ah no aspetta venga venga giù ma fanculo ok dove dove andare ah beh devi tornare giù cosa ho visto che è un casino vabbè fai qua che ne sono distrati ormai dove giù va fanculo no ropere il cazzo te c'è un tartalù vabbè fai culo i muri le collisioni con i muri le odio si sono odioso no sono fatte male nel non erano così calcate qua giù vai madonna quando scende così dovrebbe essere una specie di no aspetta vai fermo girati vai dritto non basta le balestre ok guarda su un attimo guarda su un attimo davanti a cosa c'è uno spirito oscuro ok sta partita è partita del gizzi è partita ok lo uccido come è forte cazzuto non lo so non c'era nel primo ah spada e cazzo si toglie oh è forte è straveloce questo è il punto come hai fatto a bloccarmi la guarda oh te te troia vieni su vieni su vieni su vieni dai oh mio dio vieni su serio oh mio dio vieni su serio vieni su oh mio dio vieni su serio troia non puoi farlo con un armamento così denta prendi il pugno di pugno o lo ha un punch man eh prendi il pugno prendi il pugno e vai dietro cioè per prendi l'altra arma no non l'altra ah è vero l'hai tolta prezzo di merda non pensavo un caso e la togli me ne non ho il tridente no si a parte che cazzuto quello lì va bene che il farog è qua vicino grazie a dio fai quello fai quello no mi prendo un'altra arma ok in attimo intanto dovrebbe non lo stop neanche ci mette poco tanto siamo qui vicino una falce pesante usata per mettere il grano oh mio dio dobbiamo uccidermi tutti quindi vaffanculo sbaglio ogni volta ok quindi mi prendo un'altra arma pugnale sarà letalissimo quale mi consigli quindi eh no pugnale difensivo qualcosa di veloce o di scarso uh che spigo fa la spada larga vediamo com'è si ma togli la cosa se no voi vedrò di nuovo tolgo cosa e la cimitaria no 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 vabbè ok vai avanti così usa la spada larga perchè è più veloce la cimitaria intendi no perchè perchè è più lenta più pesante cioè ma quindi aspetta cosa c'è usa la spada no quale questa questa perchè è più forte cos'ha perchè l'hai presa sei tu che mi hai detto che aaaah oh forca putt dammi dimmi un'arma decente da prendere contro quello la non hai desponato scusa come desponato non si despona dopo che mi hai ucciso ah ok oh una scimita e si una katana è uno schifo rimettimi l'altra vabbè ok era fortissima uscidi tuttima va bene ti metto un'altra testa di casa e per zappo zappo ahahahah sono l'arma egiziana Uhhh ah porca puttana guarda va così lento però va più veloce ahahahah sembra che faccia finta di dar lenta e poi aspetta aspetta qualcosa che non sia pesantissimo e che ne so spada della nebbia ma sta qua non fa granché ma io mi trovo bene con la scimitaria sai va bene allora perchè mi hai detto cambiare perchè hai detto che mi hai detto lasci lascia nooo questa qua fa danno d'avvelenamento basta che lo colpisci tante volte non so se distrodisci vabbè in caso cambiarmelo ma se mi fatteròle così no stai ti spiaccichi per terra non sai vedere ma quando puoi scherzo non fa un danno di merda oh fa un danno di cazzo però fa danno d'avvelenamento si ma dopo quando scusa dopo mille colpi scusa due volte due volte poi voglio schivare quella fatta roll ah ci riesco prova a fargli il petto quindi lo scudo piccolo scudo piccolo fai il copo di scudo colpo quando ti colpisce tu usi colpo di scudo quando ti colpisce a sinistra non quando ti colpisce nel senso che più o meno quando poco prima che mi colpisca così lo stradisci ma io solo uno avevo un mi facevo schifo con queste robe che io non le ho mai usate eh io ce l'ho fatto col persecutore vaffanculo guarda lo che ti fissa ah via 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 tu non hai visto niente come posso fare? lo fai te? vabbè faccio io oppure scappo la tiro in un'imboscata imboscata? imboscata imboscata contro chi? dai non mi seguirà per sempre no? sì invece io non posso attaccare non posso attaccare da qua scusa no ehm mi basso mi gioco in gioco colpisci vaffanculo mi ti colpisci ti potresti anche colpire lo che te però come faccio? vaffanculo vattene giù muore vattene giù vattene giù scendi muore e ti colpisci mi togli più vita lui cazzo non vale la pena dai merda mi ammazzino mi muovo il battaglio uso quella dell'avvelenamento visto che visto che difficile da battere tu da cammi arma mi ha schivato tutto avvelena un cazzo si sta perdendo ah vero sta passendo danno si il minimo il minimo parte muore dove non è male dai sta perdendo un po' tu di più nooo non era verso il buco non era verso vaffanculo sali ho bisogno di vita devo ripristinarmi la vita tu non venire a prendermi ora puoi bere sulla scala sai eh lo so ma prendi due sorsi oh due sorsi la Fanta come pubblicita la Fanta oh madonna mia assi vieni qua troia aspetta un attimo che esulto come si fa esultare dov'è che si esulta grazie solo per la forza che mi hai donato vai così benvenuto inchina sono veramente fuori inchina duello che sarebbe stava qua non può neanche piegarsi che cade per terra con tutta questa corazza è euforia si vai così ah sta qui c'è anche nell'uno stessa animazione madonna mia non sapete quando sono soddisfatto ragazzi era più forte era più cazzuto sto qua che il persecutore vai da Peter quello là quello là che è seduto ok non ho sentito il rumore della balestra quindi va bene quindi ci parlo si parlo eh saltiamo ragazzi non è la stessa è solo cazzeggio sto qua ok si vabbè tu entri nel co ah si è imboscata non lo so imboscata vero è un imboscata si ma sono forte io così dove è il boss più vicino ah devi andare di qua di qua si bene veda che voglio essere sicuro eh si trova un farò più avanti poi se lo metti nel naso se lo metti nel naso non ha il buco per il naso escono dalla porta escono dalla porta escono dalla porta eh questa porta escono dalla porta che porta ah quella lì dove sono usciti che cazzo lo so la sto guardando noi continuate in mezzo dalla porta io dico quale porta c'è un'altra porta no ok uno è morto manca l'ultimo manca l'ultimo stanno chiamando no sono di là che non so colpiscono un albero non so non ha tanto senso come cosa colpiscono muore ok mi stai qualche mi stanno chiamando oh madonna faccio io si si faccio io ok un attimo vabbè tu chi c'è chi c'è il microfono va ancora lo sai l'ho salvato e vediamo un po' se c'è qualcuno qua ho staccato il microfono per evitare ok ok sono tornato ragazzi ma da facca mi starebbe tornato ok funziona adesso bene ah ah mi ricordo un po' dove si va a vero rompico rompico oh oh dove dove andare chi è che sta attaccando il caso si stanno attaccando giù qualcosa dove andare ora aprirlo se lo prego butto butto ciao peter bene bravo dunque e mi butto giù qua si qua si parla con me si parla 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 beh che mi interessa credo il coraggioso guerriero se si è cavato fai attenzione da fuori dicono che ci sono schifosi banditi che salgono i viandanti come te ci sono una tartaruga io oh ma dovresti prendere questa permette non morti di chiedere aiuto ad altri non morti tramite delle fenditure tra i mondi con un po' di fortuna qualcuno ti darà una mano si ti darà una pietra bianca ma sei dentro quindi io sono una tartaruga dove devo andare ora vai a destra attento che qua ci sono quelli che si sparano bombe in alto dall'altra parte in alto a sinistra in alto a sinistra in alto a sinistra ma che cazzo non di oh porca dove cazzo sei andando in alto a sinistra in alto a sinistra oh madonna lo so dove la sinistra e perchè lo scendati ahahah bastardo fottiti scusate scusate cazzo vero alla piramazzia vaffanculo aspetta aspetta dietro di te ah no ok 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 no voce ti ahhhh che cazzo è 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 no non posso dire tra pociccione ti prego dimmi di no ah ok ok io uso l'incantesimo del punto lo bombardo con la magia vai attacco di giallo 1 si si è possibile in mezzo io ok così ok così ok l'anno che si può passare per usare si era forte quindi tu usava ah ah che direi mettere il mutato via visto che c'è un piazza 1 ah io dico senti no te ne dico lo scuola di caso mai sostituisce quello piccolo che non voglio utilizzarlo la palestra voglio io la presta fiera aspetta vediamo un po quello si va bene ok ok si va bene non riesco a prenderlo da qua aspetta una ti per davano io vado io penso tutto io tutto quello della magia si cambia l2 r2 un serio r1 prima rl 1 l1 certo questo qua questo e questo qua a dare diversi con quello sicuro della magia a me niente il facendo 25 questo 115 ok riesco tutto e facciano attacchi salto no attacchi salto dai ci definiti ora che cosa fare due adesso ho perso vita ma che cazzo dai si è saltato da un piano lo so ma era figo non meritavo di perdere vita ok ok quello è morto va bene non c'è uno sinistro hai cazzotto sto qua due che siamo finiti no no spescare a caso togli la palestra porca puttana se siena bene c'è quello l'ha disteso che cazzo è sto qua lo uccido ah no non è niente non è niente oh si ah si ecco qua io ero un miscuglio di cazzate ok per di qua quale sarà il boss tra l'altro fermo sinistra là ce ne son due guardi intorno eh se vediamo se abbiamo qualcosa di bello c'è una vitale osso di ritorno va bene dai ne son due attirene una alla volta bene ora io tanko che è una meraviglia una la vo e una la vo delle attirene ce la posso fare voglio schivare ora vedi fa trolla un cazzo di niente schivo bene anche senza ok vai nella nebbia no non c'è il boss ho sete buona sede meno stati ce l'ho detto barattino sotto questa corazza e stazza per lui ma la sinistra c'è un farò qua vicino fai tolacin avanti a quella porta ok ora puoi accedere dal boss diretta metodo ok quindi era la porta di prima ok se il bus quindi torna farò dico io bene la radica che è tornato il cassetto motion per il pan il cassetto motion io c'ho un cazzone di ferro invece di ferro ok robe volgari tra l'altro quella roba lì non quella vecchia lì ce ne freghiamo di quello che vende perché tante le corazze ce l'abbiamo già no perché tanto vende merda fa schifo quello che vende ma noi potremmo riacquistare la stessa corazza che tu hai già ottenuto questa cosa l'ho tenuta dai 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 dalle tartarughe si si ma c'è una corazza che tu hai già comprato e quindi ce l'hai già perchè hai rifatto il gioco in modalità come si chiama quindi potresti ricomprarla si qual è l'utilità? nessuna ma solo che chi è così stupido da ricompare un'armatura che ha già ok a meno che non c'è un'armatura a meno che non ne voglia due a meno che non c'è una che protegge bene ma che si rompa subito quindi ne vuoi due bene vediamo questo cadavere freccia di fuoco una sola me l'ha data spero di no 10 te ne l'ha data ah ok ma non di qua indietro ah quello lì indietro si sta nascondendo si sta nascondendo muori troio cosa hai fatto? ah vero che a volte fai degli attacchi speciali quando corri ok come stavo dicendo a volte quando schivi fa degli attacchi fighi guarda qua che roba anche nel primo con la cimitarra faceva delle figate vediamo un po' ora poi dovessi andare giù guardate che figata che poi è per di qua o meglio qua mi ricorda l'1 la scensore la che c'era scensore scensore si c'è tirato fa delle robe tipo da ninja super esperto con una corazza che peserà quanto quanto pesa questa corazza ma forca quanta tonnellate peserà è il gigante attendò ah ah non farmi sti ore di porca puttana muori sul colpo no la non puoi andare perchè c'è una chiave e non andarci neanche c'è la chiave perchè cosa c'è lì dentro perchè lascia perdere c'è gigante giusto? no c'è c'è un livello difficile un po' contattivo ma difficile ora c'è il boss ah è il gigante eh sei più grande tu di lui fermo sono una tartaruga sono un botte non sono un giocatore c'ha un buco in faccia non so se la bocca l'occhio eh però è cazzuto questo qui ragazzi ma va ma che cazzuto che è una cazzuta io ne che black ho visto le gente le prendeva eh? fa paura perché altro ma chi è che le prendeva scusa? eh non dico youtuber non voglio sponsorizzarmi ma dai va che è una cazzata sto boss gli stai sotto al culo io l'ho battuto l'ho battuto che è una facilità su Dark Souls state gli stai sotto al culo oppure dietro al culo perchè così non vi colpiscono non serve l'abilità basta che gli stai sotto sotto mi sembrano quasi oh mio dio sono gli stessi giganti di Kingsfield quasi non trovi? si è vero sto pensando anch'io ho visto uno che aveva fatto una mod tipo Dark Souls in prima persona era copia in colla di Kingsfield ah Kingsfield ragazzi noi ci abbiamo giocato ma proprio ha giocato intendo un merdato si era tipo come dire eh il predecessore di Dark Souls in prima persona vaffanculo solo che è molto lento ok è una puttanata come ho fatto a ferirmi? mi che è pestato qua fa beccato molte volte cosa? devi stare sotto o non dietro poca vita quante spade ha confincato sto qua? vuole staccare il braccio con l'utilità vero mi ha incastrato è riuscita ad incastrarmi me sta dando si bravo resta fermo sotto eh basta bene ma perchè sei scufo? nooo ma ti sei portato ammazzare da questo? no no mi hai battuto io non ci ho mai combattuto ma già ok lo fai te ok lo fai te ok lo fai te ok stop la registrazione no io non mi cambio il cuffio ah ok ah vero si si c'è un livello facoltattivo nella porta ma perchè non c'è pate qua? aspettate un secondo eh abbiamo figi umane ne abbiamo 45 ma poche perchè ti sei fatto diventare umano? così oh evochiamo un po' pate non ho mai evocato prima ora vuole evocare puoi evocare anche più di uno? vedo io evoca anche l'altro col cazzo no provo tanto cosa ti costa guarda che tang guarda che scudo che scudo lo puoi prendere questo scudo stessa coraggio dell'uno ragazzi no lo va vedere un attimo evocare l'altro no lui è il mercenario è una roba è una roba immensa vediamo che roba ah l'armatura di abel che ha ancora due scudi che combatte vabbè dai posso fare anch'io adesso è il meso cosa che possono più vita se più alleati hai più vita hanno si vabbè mica è così facile ti sembra? dai vabbè me lo botto anche da solo merda merda il gioco scusate stavo giocando dai batti loro batti loro posso fare io ora? perchè? poi ci ha fatto una volta vedi che ha più no subisce subisce meno danni subisce meno danni vabbè padre che c'è uno che combatta con gli scudi c'è uno che ma le prendono e basta vabbè padre che payda tutta la vita vabbè padre che payda tutta la vita non lo contisco neanche cazzo si va bene inutile ci sappiamo si grazie anche io ci riuscivo con due tank eeeh vabbè sempre scuse sparta non hanno subito danni si sono fatti malmenare e sono ancora full vita non hai canta del male vabbè lo faccio ma quello li quello li di havel il combattere almeno mi sembra di si 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 sta combattendo ah lo scudo di havel fa tanti danni tutti e due li ha presi doppia kill ma fa tanti danni lo scudo di havel vediamo noi per l'altro perchè attaccare con lo scudo è una stupida prova un attimo prova un attimo ma non lo scudo di havel ma fa danni anche sto qua prova a vedere quanto scudo ha quanto danni fa aspetta dai attaccami quello è un'intera di pagina lo scudo però prova ah gli hai pestato il piede ah adesso si mette un lato eh guarda che ne fa anche gli danni eh si grazie a chi ci sei tu puoi anche stare lì a berti un frappè poi che non ha morto adesso è morto e combattono tutti gli alleati che non può fare niente allora pete a metà vita ormai muori ah no chiave del soldato lo scopo degli alleati quando si sta giocando a è forsi per stare è quello di farsi spettare per stare che tu lo batti però c'è un c'è un alleato che però devi come dire allora appena succede queste mi bucarò tre volte con due tre boss però devi tenermi in vita se no col cazzo che ti dà il suo set vediamo 7 è bene perché anche lo spadone che è forte oppure te lo vuoi prendere uccidendolo ma io voglio essere pacifista quindi già è un undertale grazie sì vabbè ormai non voglio fare lo strontano cadete davanti a me e qual'era l'altro ah già il persecutore ma si possiamo farlo anche adesso comunque credo che ora Pete mi dia il set completo perchè l'altra volta non me l'ho dato siamo andati a farlo qua ah sì è vero siamo andati a farlo guarda lì guarda lì guarda lì entrambi che arrivano posso fare io? no dai e tu hai già fatto il boss e hai perso ho battuto il sterminatore dai il persecutore e io non me lo so io non l'ho presa a meno qua cosa scusa? e tu quanto ne hai presa qua? si io gioco ogni volta a darksos 2 sai si hai giocato sempre all'1 però sai come abbattere orstein? è tutto diverso non è vero non mi hanno dato loro hai evocato il sole il sole soleil l'hai evocato è cazzo tutto soleil eh già ho giocato cance ok qua c'è qualcuno chiamato luca tier ma vabbè ok dai dai qua che oh me lo voglio uccidere io sono belli oh madonna ti droppano la corazza sti qua che bella si eh però sarebbe più bella se avesse se non potesse così schifo è muto si cioè sarebbe più bella magari se se avesse la corazza un po' più cicciona vaffanculo le pareti si ne arriva un altro sempre da sopra ah no non arriva si a destra a destra a destra no lo so perché faccio il casino madonna ah non c'è vabbè che saranno no da 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 madonna ti di backstab che è una meraviglia non è morto nel lunedì backstab facevano molti più danni si ma dipende qui martelli i backstab li fai con una meraviglia no 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 ma che cazzo no è un soldato vuoto ma che cazzo a mezza le ferimentate non di spade la e se uno c'è un arciere si ciò puoi dire un arcista nell'uno gli arcieri erano tre volte più inutili qua le loro frecce tu le potevi qui sono difficili nell'uno le loro frecce potevi schivarle così no più più così così le schivavi le loro frecce nell'uno lo sto schizzando si tipo il ponte a norlondo che ti sparano gli ombrelloni si si così così da parte quei macchi quelli li vanno un po' più veloci ma le frecce normali si come puoi andare a amazzarlo che mi stai facendo venire nervoso ma fatelo volevo vedere se faceva danni ma sai quanti anni ti ha fatto con la carica? quanti? ti ne ha fatto tolto quasi mezza vita così non importa se perché poi non è na che io ho visto c'abbiamo uno youtuber cazzone la che mostrano un po' come funzioni le armi e le corazze varie del medioevo e robe varie ah si si e loro c'è una spada di merda contro una corazza del genere tu per distruggere e andare avanti tre giornate per colpire sempre nel lo stesso punto ah non c'è il persecutore quindi l'ho già ucciso prima si questa qua è la zona del bosco quindi non serve che lo rifai bene per fortuna ma pensi che sia finita qui? no vuol'è che durante il gioco lo ritirovi avremmo fatto mezza ma in forma potenziale che sta attaccando che sta attaccando che sta attaccando avevo spiegati la storia? no 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 quindi qua sono i soldati vuoti di Drangleic si quelli la sono i giganti morti si e quindi li odiano a morte e vogliono ammazzare anche se sono già morti perchè scusa sta roba? non lo so ma non hanno emozioni ma non hanno emozioni no vabbè me lo voglio picchiare io madonna vabbè la armatura se la hai già esamina esamina rincoglionito che è un valido il soldato vuoto cos'è? esamina rincoglionito ma come? madonna perchè di solito che succedeva? deve avere una cosa che ti da tre contico così puoi accedere ai ricordi sto controllando un attimo whatsapp ragazzi madonna mia classe niente vai su per le scale vabbè non serve che vai giù che bella mi ricorda il signore degli anelli quella è stata dietro madonna sul nido di merda lì esamina ah qua ti mettiamo così siamo proprio un uovo ragazzi no sono un uovo zitto uovo zitto uovo devo consegnarvi ascia mezzaluna questo che potrebbe essere speciale 50 iscritti ok quando ci arriviamo ragazzi ragazzi grazie per i 20 iscritti intanto vaffanculo ho sbatto le cuffie cos'hai fatto? le mie cuffie? tra l'altro dovremmo essere girotti in tutto quanto con una colazione del genere non si rialza così tutto è normale non è vero che c'è un mimito no 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 io so riconoscere i mimiti adesso ok vaffanculo fantasma di merda ti odio sei bianco sono razzista contro i bianchi io muori ah qua mi ricordo bellissimo gli ho visto dai gameplay di alcuni alcuni youtuber come si faceva ehi ah ehi ah ehi ah ehi ah ehi no 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 che danze indiane ah sti qua si che cazzo lo fa un cagare eh lo so ma io li ho visti dal percorso piccolo che porca io li ho visti solo dal gameplay ragazzi ah devi essere in forma umana per evo qua metterlo già detto cosa c'è per roba importanti per dirà no 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 c'è il persecutore su serio? si a bello puoi andare anche a sinistra andate ogni tanto questi qua andate che voglio vedermeli bene che non ho ancora capito bene cosa sono delle mumie sono ragazzi molto stupide anche si sono lenti come a volte disparano le palla di fuoco per fare il film perchè te le mumie? vai da dietro devi andare non ha coerenza a destra vai alla porta attento si vabbè vai 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 attento non cadere giù che ci sono i cani ma fa cura ah c'è un' acera che ti punta dove? ah no intelligenzaaa dove sei? ah ti ho visto ti ho visto perchè non mi ha merda avevo preso lo scuro sparami ora no fai fai prendi prendi l'incatemi di fuoco vai ma perchè ne si vaga così non cadere giù vai oh e vabbè perchè contro la scala oh mio dio che costacolo ahahah 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 nooo un attimo ragazzi che vaffanculo per lo scuro un attimo basta vuol dire che mi tolgo stare aspetta no 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 la palestra puoi tenerla la palestra puoi tenerla ehm 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 molti tardi ma non posso metà bene bene e se quelli di del sole della l'ultima solita vaffanculo guarda dove si ferma e guarda che insomma la freccia vaffanculo che è trollato no aspetta sei che da anni di merda fermo 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 si ehm quelli del fuoco non ce li hai vero aspetta ehm fammi vedere un attimo quali questi di fuoco ok ehm faccio io no sta fermo faccio io un attimo qua che poi quei cani lì non potrebbero farci danni siccome siamo un transformer di ferro ormai cos'hai fatto? no aspetta come fai a mirare così bene precisamente te? ehm si non lo voglio di spiegarti come cosa devi fare? non te lo dico perchè non mi ammazzo io cani di me da me è un cane oh mio dio nel luna è uno stra fastidioso che ti fa nel disanguamento si anche qua ma tu adesso fai un mercato come facevi a mirare? ehm come facevi a mirare scusa dimmi un attimo ehm allora devi usare il pulsante opposto guardate siamo umani non è stato solo ora si se lo usi si non lo voglio di spiegartelo non lo voglio di spiegartelo ma se questa qua sei la stessa roba dell'1 mi era utile perchè gioco da l'1 premi con quello da questo qua spari con questo qua miri ah no ho sbagliato cosa ho fatto? non lo so con questo qua ah ho sbagliato con r1 qua con r1 miri ah ok perchè ho sparato quella roba e come si spara? così giusto? ero tu non porta spara con aero ok si ho capito no 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 vabbè spari con aero 2 lo stesso ok attento vai avanti un attimo vai avanti che posto sarebbe questo qui? è il luogo del persecutore madonna mia le campane di una chiesa di don morti ci ha prevate le bestemmie che ho avuto a tirare per battere la regina il primo eccolo qua eccolo qua eccolo qua di nuovo tornato belto di merda la prima volta ho visto prima volta era tutto tranquillo così eh vedo che mi ammazza oh mio dio ma qua non mi può prendere no adesso scappa vedi e se torna indietro no non ti prende neppure ti prende neppure ti prende neppure e adesso se ne va ha ha ce n'è andato no non torna più ma se lo uccidevo cosa ottenevo in cambio? eh ti dava una nera ti dava la titanita e i cintiglanti in intanto avrai giata è giusto avrai 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 in modem enorme dove devo andare scusa? super la scala super la scala ti ho fatto perdere tempo si ma quanto dura sta bisogno scusa? eh facciamolo speciale 5 iscritti si ok ma sta durando più di un'ora bello ma poi tanto tanto che metà delle robe le toglieremo ah le toglierai io con cazzo che hai aspetta aspetta ho capito mi rifiuto ok dove devo andare scusa? no erano più brevi questi qua? si mi faccio danni non ti fai danni solo se usi una mazza si ti fai danni perchè esplodono solo con la mazza? oppure col fuoco ah e mica le sapevo io cioè ah sta qui chi è scusa che cappello è il suo? perchè è un maschio? e ho fatto fatica a capirlo anch'io no è una donna con una maschera da quella maschera a volte dicono ah è vero è una maschera cazzo io pensavo che cazzo è un trans questo no ah 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 che matica neanche forse un video si è vero è chiaramente vato no inchietro vedete che è figata che siamo ah non ci sono le scale da 3 vero sbaglio pure avanti ah è a bassi sinistra aspetta abbiamo il coso non sei con questo Sì sì ok Mi guardo un attimo la corazza Guardate che figa è proprio fatta bene Due Non fare il cazzone che sti fa un danni Aspetta E mi riguarda la corazza che è una figata ragazzi Guardate te qua Non prendere tempo che ti mira quello dietro Come su serio? Ah ok E comunque come stavo dicendo Madonna mia proprio figata Guardate quanto è fatta bene E andiamo avanti Posso andare? Guarda che prova a salire Sì sì arriva Vaffanculo ci è arrivato Quindi spari da magia bastardo Perché spara sulle magie? Ok Ok si va di tra poco la smettiamo C'è una statua Andiamo se riesce a portare Va va Sì esami No staccazza non hai il ramo No quindi che devo fare? Eh tu non è indietro che cazzo vuoi fare? Non c'è un'altra strada a prendere avanti qua No Che mi ricordo che era difficile E qua giù che c'è? E vai Non muoio mica vero? Ok E' uno scalino non puoi muovere Ah 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 Ce n'è un altro di mumia Eccola Uh 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 Sei un totore di backstabbing Non c'è non c'è Non possono backstabarti No non puoi perciabare quelli grandi Ah guarda se non hai neanche reggito No aspetta 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 Fai rotolare giù il barile Che figo No non è tanto perché figo Falo esplodere adesso Come? Mi hai spiegato prima Che dove si travalle No 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 non lo faccio così Vabbè te l'ho detto ma non lo faccio perché Ah perché così Ci sono anche i cani da Dai fallo dai Fallo per me Non faccio per gli scheretti no per te Se devo fare qualcosa per te non mi alzo neanche dal divano Sapete cosa voglio provare a cambiare l'arma A mettermi una mazza ora Si Oh mio dio Aspetta 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 ho sbagliato Eh no perché sei beccato No Non sono morti i cani comunque Mi ammazzo io Mi ammazzo io tutti Quanti danni mi ha fatto un cane Ragazzi esistono i cani anti corazza Fatti apposta Tipo deformano le corazze quando le mordono Cioè Dai Un attimo voglio una roba Io ti ce l'ero lentamente Cosa? Una mazza figa Una mazza figa Dove la trovo? Eh porca trovi Adesso devo dirti tutto Cosa? No invaso tu Invaso Siamo invaso No l'ammazzo io No tu puoi fare un cazzo Ah Sono bravo lo uccido scommettiamo Vai Ok Vai andiamo Ma è un IA questo qua? No È un giocatore Aspetta No 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 è Gandalf è Gandalf No A spada e a spada e cose No 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 merda Le anime ricercanti Vado a una ricerca calori? No Dove ti vengono a prendere No ho fatto l'arma magica adesso Fai te Fai te Ma vaffanculo Oh è tuo è tuo il nemico Lo mio Eh mi hai fatto sbagliare il pulsante L'ho schivato L'ho schivato Bravo Adesso vado No Non gli hai fatto danni? Oh 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 È un cheater? Oh mio dio Cosa è stato? Prova a colpirlo Guarda se è un cheater Ah no Eh no l'ho mancato Ecco Lag Viva il lag Eh bella merda Se ti fa danni anche quando No è perché non parla magia Ma sarebbe quasi da scappare Quando sei contro Oh merda Eh sì È un nerd sto qui ragazzi Ma cazzo Scappa 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 Ma quando finisce l'effetto del L'effetto della Forca troppo Quando finisce l'effetto della spada? Scappa Scappa Non capisco un cazzo Avere uno che mi vuole scappare l'orecchio Avere uno che è impossibile da battere Sì guy dai lag Il lag Il lag ti sta aiutando No 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 Ora devo colpirlo Gandalfa Ero toccato Il cavaliere dello specchio del mio cazzo Ma è dello specchio cazzo Oh Io stavo pensando Perché sta colpendo il vuoto Oh merda lag Qua energia eh Cazzo c'è energia Scriva destra subito Merda quando ti inculano Merda Ma si è il cavaliere dello specchio Sì ok ma io l'ho colpito Guarda che si deve mettere in culo Ha fatto di merda Guarda che ha fatto Ha fatto l'inchino Reppa Ma scusa ma quanto dura l'effetto della spada magica Sì è durato mezz'ora Dovebbe durare 5 minuti eh Oh era un pro Era un nerd ragazzi Era un nerd Era un nerd Orca futtana non è possibile Ok Ma poi lo colpisco e non si sto dire Ultimi 10 minuti di registrazione E poi faccio io No un attimo Voglio fare una roba Un attimo Un gioco è mio Mi ruba tutto Allora se cosa fai Mi do la dita Ok Ma il basi 30 Via chiavetta E la mazza più figa che c'è Quale sarebbe La mazza? Sì C'è un mazzo O mazzerandi anche Mazze e medie Dai piccole Medie piccole Questa qua So già che sarà enorme Scommetto che sarà enorme Sì infatti Non ne voglio così grandi Muore bastardo Ci devi tornare là Un attimo che No sta qui No una Devi Una mazza Una mazza Una mazza Una mazza Magia Boh Questa qui fa Pieda Qua Non c'è un son di più Oppure c'è un martello Anche No Stavo fa schifo Ok E tipo Serve anche per incantesi Questa qui Dai quali mi consigli Questa 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 Io farei Mazzamagia Io farei la magia Perché Vabbè non fa un cazzo di danno Più serio Sì anche gli altri Non fanno un cazzo di danno Sì come ne chiesta uno Ok invece qua Al posto del piro Qua ci metto Un ascia figa Il piro Basta ti impotere Non ci gioco più Io mangio ancora E perché lo chiami il piro Un ascia Un ascia figa Un ascia figa Più avanti Un ascia figa dai Ascia Sì Questa qui 190 la vedo bene No sta qua pesa Pesante Quella da Mazzatraghi Ascia mezzata No ascia su No questa qua è grande Su Questa è no Vai a destra Destra Vai No questa Aspettavo questa o l'altra Ascia pesante Cosa qui Questa qui Questa qui Questa qui E che la te la ascia Possiamo andare avanti Sì sì un attimo Che fiero che mi sento Madonna mia Ora mi sento un tank ragazzi No quella mazza Quella mazza Ora Ora ta Anco ragazzi Scusate Che sei così lento Dammi Aspetta fa vedere Cosa vuoi fare E' 106 Pesi un casino Toglimi la scimità Acchio No faccio io Tu non sei fare un cazzo No Nell'1 non dureresti niente Ma perché non l'ho preso scusa Perché Darksus è fatto bene Ah ecco Va bene Fa poco di danno sbaglio No recuperiamo anche poca energia ora Il muro Ma perché mettete i muri Fa un attacco pesante No Greppa Mi metto l'ascia Mi tolgo la mazza Così pesiamo meglio Togli la mazza Ok No Pesiamo ancora tanto Adesso pesiamo bene Ok C'è bene Perché siamo oltre Pesiamo giusto Ora non siamo pesanti Madonna mia Cioè per schivare Lui si butta per terra Guarda sì Vabbè perché si butta per terra Che c'ha la corazza C'ha la corazza dietro Che lo protegge Prendi qua è giusto Sì sì Quello l'ha ancora là Se non li paghi tutto Non sai stare Perché non ti dico niente Merdi asca Nonna Nonna L'hai schivato per culo a me Cazzo Cazzo se toglie oh A me non mi hanno mai preso Perché sono lenti Lascia o lui La mia ascia o lui scusa No lui Non andare lì Che non è ne che ramo Chi si Ma che cazzo fai Voglio andare a uccidere Quei due Eh fai maravolo Vabbè muori Madonna non è forte Quest'ascia qui Cioè Sì tra le asce piccole È la migliore Se no Lì potete impiarla Cioè si fa molto meno danno Nella scimitarra Giusto? Mm Sono io che ho capito Ok No Oddio Qua Oh E quanto mancava? E quanto mancava? Niente Niente non mancava Non so neanche perché Sei ancora vivo Che l'ha voluto Dio Che c'è di qua Curiosità Fioi Cos'è? Lei si è naturata Ripara le armi Oppure le rende più forti Non mi ricordo Ti mette il fulmine Ti mette il fulmine Madonna mia Sì perciò Le rende più forti Occhio che se fai esplodere Quella roba lì Siamo tutti quanti nella merda Non è così stupido Da farla Ah anzi forse sì Madonna mia Ma le tre volte È migliore questa qua A voi non serve Che la fai a rotolare Giustato Il buco La mani esploro Merda i cani I cani Ora c'è il favolo lì Come l'ho fatto io a morire prima Che non mi ricordo No No Vai nel favolo Vado 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 Dai Alzati Una qualsiasi persona Avrebbe avuto un calo di zuccheri Sbaglio Hai incazzato Che stava facendo No è così È un po' fatto Eh 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 Oh Perché non puoi essere Sempre così facile Abbiamo Perché devi leggere Abbiamo Prendi forma Prendi forma Ho detto Oh ci siamo Sì così si fa Caracchiamo Un po' pazzo Sì devi avere un titone Smog Ah e magari Lui è Magari lui è Mezzo per conto suo Ah tu mi ha preso Tutti Tanto non sono Tanto lui è mezzo Conto suo Ma quando gli dai un martello Un tizone Ti fabbrica delle armi Che tiri giù Che tiri giù i santi Esatto Hai seduto anche su un Un coso Ma siamo Cavolo alzati che Magari poi Quando lo fa il zale Puoi andare su quel portiere Di aprirlo giusto Che figata Ma apri Ce n'è un'altra Cazzo Ma ti fai un smolto Non so dove cazzo Non mi ricordo più Ah beh vai avanti Frammento ok Questo qua Tutti i frammenti Stai tutta roba Insieme Invece Ok Non posso passare Con mezzo Oh come come qua Ah è segnato al farò Senti un po' Senti un po' Senti un po' Senti un po' Anche io Devi andare dietro Senti stai qua Eh ti serve E' per questo che hai detto Fa il tuo recolo Perché Però dovevo andare Scusa Devo si tornare indietro Ho visto che non hai Il come si chiama Visto che non hai Il ramo Non puoi andare avanti qua Ah ok Devi andare con i cavaliere bianchi Che qui e lì eh Ok Quindi Interrompiamo qui il gameplay Ragazzi Uccido quello lì Con l'ascia Giusto per fare la figura Del tank figo No spara Spara Va bene Non ho voglia di dire Puoi andare ad arco Vieni avanti Dai che son pronto Dai che son pronto Vieni qua Guarda come è distratto Non ti rega mai neanche Così stava pensando Bene Dopo posso tornare a casa A mangiare Ancora vivo Ma sembra che abbia quasi i cappelli No niente Aro gli ultimi Hai detto Sì Ok Aro gli ultimi Mi stra piace Dare in giro vestito da tank Sei fedele come un cazzo Forse questa corazza qui Protegge meglio dalle esplosioni Forse capisci perché Devi darmi ascolto Il bello è che Ha sparato gliela E partito di qua Ok Macete pesante Macete pesante Oh mio dio E' un pezzo di pietra Buttato su uno stecco di legno Non ho mai avuto un ucete pesante Voglio provarlo Ok Quindi ragazzi Dopo che i crits avrà ottenuto Il macete pesante Interromperemo con il gameplay Quindi vediamo cos'è Oh guarda qua Sono tutte le armi pesanti E' un dente di drago Quello lì è cazzoso E' un dente di drago Si è abbastanza Fa tanti danni Nell'uno è abbastanza forte Ma dove cazzo è il macete pesante? Ah ma non lo so Io sai Gioco ogni giorno io a Dark Souls 2 Si infatti vedo come fai scherzo E' muto Bastardo Eccolo qua Che cavolo Ma non è un Non è un macete Com'è forte Non è un macete Non è un macete Che cazzo è nella barda? È forte o meno Fai un attacco pesante Ma fa schifo Si Lo faccio Lo faccio Oh mio dio Siamo ancora in piedi Sino fa abbastanza cagare Perché è nella barda in pratica Ok Nell'uno devi Nella barda e due mani Sono abbastanza forti Anche se sono lente No a me non piacciono Nell'uno però Guarda che ho usi D'armi a due mani Oppure hai culo Che ti droppano Quelli lì forti I cavalieri Cioè Nell'uno sei costretto Utilizzare armi a due mani Perché quelle lì A una fanno troppo poco danno Almeno per la maggior parte Del gioco Ok E basta Interoppiamo qua Ok Le bevo tutte in pratica Oh si Adesso vedi che È un biato Non capisco un cazzo Aspetta 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 No dove cazzo è Doppio scudo Doppio scudo No dai doppio scudo Sì ok doppio scudo Dov'è il doppio No questi qua che sono fatti apposta Per essere doppi scudi Su serio? Questi qua sono gli scudi Che devono Prova a vedere Quanto danno Prova a vedere Quanto danno fa Su un tipo Oh non riesco a muoverlo Mi cazzo Ma sono un tank Aiuto Qualcuno mi può dare una mano Suicidio Non mi hai tolto un cazzo Non mi hai tolto un cazzo Ok Adesso andiamo piano piano Al polo Vediamo quanto tempo ci mettiamo Va bene Mettiti due sculi normali Leggeri un attimo No dai Metto So già quali mettere Due che siano simmetrici Simmetrici Aspetta No dov'è 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 No 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 voglio trovarlo Ah no 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 due Peccato Volevo mettere due bucler Che sono due cappelli Ok un attimo Un attimo Fai questa roba qui Fai questa roba qui No 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 dai qua dai qua Dai Dai Non lo sai far bene Dai qua un attimo No Dai Bisogna salutare Attacco pesante No Aspetta dai un attimo No attacco pesante Aspetta aspetta Oh mio dio Ah no peccato Un attimo che Come si chiama Accuto Accuto Sì O che cavolo Passata Ah ciao Che è una pro messina Che sta grattando Guarda quella Che sta facendo Che sta fatando Che cazzo sta facendo Perché putt Aspetta Vediamo un po' Allora Questo lo pone da acqua e lo scudo prende l'alto la 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 lascia la vuole da sotto per te andiamo avanti mi vado avanti carano ho bisogno di trovare qualcosa di caldo ma questa corazza qui protegge meglio dalle espressioni del fuoco perché vedo che fa proprio no 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 dobbiamo farlo adesso provo a vedere quanto dobbiamo fai con un cane con lo scudo mi schiacci la testa mi sono morti aspetta no andiamo avanti uno scudo piccolo e un scudo grande allora pari con quello piccolo e attacchi con quello grande madonna la cosa è ucciso io non so qual è utilità di uno scudo cioè fare lo stesso danno di un'arma più o meno come ottieni quale le varietà io combatterò contro di te oh oh no 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 bol過�ato squint95 stavo scrivendo stavo scherzando non puoi venire si parla vero? guardalo è sparito guarda quello che ti sta attaccando attaccalo ma se tu vedi loro loro vedono te gli spiriti no 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 te lo scordi ma è da caraline pc in dark source non farlo mi ha colpito non farlo aspetta oh cosa stai facendo? ahia 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 guarda che lui fa da anni prendimi ora vabbè sta guardando il martello quanto è bello bisogna applicarmi forte più avanti si ma il martello d'artigiano che in pratica è sul portiere che ha sotto al culo è forte è così più di una mazza possiamo smettere di fregare guarda la corazza come si deforma sembra che sia è la corazza del super saiyan che è in materiale flessibile aspettate oh ciccione guardate aspetta guardate vedete la matura si è rotta lì si piega sembra che sia tu nell'uno ma qui le corazze hanno fatto sembrare troppo ciccione alcune cioè nell'uno non erano pensi così male che ti dice sull'armatura di catarina? vediamo se è la stessa roba dell'uno una strada armatura simile a una cipolla questa armatura ha un aspetto assurdo ma nella sua progettazione multistrato simile a pratica difficaccia nel deviare gli attacchi fisici le antiche leggende narrono dei pro di cavaliere di catarina che riesce ad alzarsi dal letto quando si dice aaaah si lanciavano in battaglia si lanciavano letteralmente si si rotolavano rotolavano in battaglia guarda rotola vaici su di schede rotola 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 infatti schiva veloce è anche leggera giusto? mica tanto però protegge bene aaaah protegge bene però si abbastanza nell'una era molto forte mi ricordo ma si dai ok interrompiamola qua no dobbiamo prima ucciderli tutti tutti io vado guarda vado due mani con la cipolla vado due mani no aspettate aspettate no devo farlo devo farlo devo farlo non l'ho mai fatto prima d'ora ma devo farlo io dovrei andare a casa non mi interessa aspetta guarda ora guarda quanto è grande oddio guarda quanto è grande ma riesce a correre anche guarda quanto è grande provalo contro un altro nemico vediamo quanto è grande quanto pesa che cos'è questa mazza qui come si chiama? martello della forgia 384 di danno è una roba disumana guarda che non uso neanche al massimo ah posso sì o no serve 70 di forza provai che pagiata in una destra e una sinistra e non ne ho due mi sembra di sì sei vai giù aspetta dai due dai due no qua mi porto un casino eh due una destra e una sinistra adesso sono cazzi mostri guarda guarda si piega in avanti togiti la colazza togiti la colazza guarda si piega in avanti perché non ci riesce oh sono ancora troppo pesante ti rendi conto madonna icone veloce anche prova a fare un attacco oh tazzo però guarda non capi un cazzo il danno quella c'è colazza non colazza dove l'ha messa la matta? prova a fare un attimo a vedere quanti danni fa ok vediamo io non riesco a vedere in avanti da quanto è grande ma come fa uno ad andare in giro con questa cosa? neanche tanto ma anche poco fa di danno prova a mettere una sola mano che magari fa pochi danni così adesso lo vedi che fa più danno wow questo è forte no c'è un altro adesso si che siamo forti attacco pesante li usa tutti e due forse l'ho schiacciato l'ho schiacciato a terra si come penetra vediamo vediamo no no vediamo doppio colpo quanto sei nella merda se ti prende oh quanto è forte ma è forte quello che pagano per la terra nebbiosa per la terra nebbiosa sembra che un tempo fosse un' ascia ma in questa terribile estate è poco più che un blocco di metallo pesante con questo che c'è un tempo era un' ascia sta roba qua non ti immagini non c'è grande così ma si vede che è solo il tronco dell' ascia che erano armi enormi forse usate dai giganti non so si ma vabbè erano grandi anche per quelli che le usavano quindi hai capito quant'è grande sta roba è una roba di gigantesca ok possiamo interrompere qua deve andare a casa DEVA ADDARE A CASA ok vai a cagare oh ok ok poi tra l'altro solleva anche un pulverone li provo un attimo si ok ok e ragazzi quindi questo qui facciamo fida che fosse stato lo speciale c4 iscritti per quando ci arriveremo oppure potremmo anche caricarlo come bisogno normale tanto da censurare non c'è niente no sei già più umano da censurare non c'è niente e ti assomiglia non tanto e quindi ci rivediamo al prossimo video quindi e quindi? no ah buongiorno a tutti ok va bene in ogni caso ragazzi speriamo vi sia piaciuto e con questa orribile scena ci vediamo al prossimo video ciao a tutti